Per quasi tre ore ha incantato i presenti nella biblioteca comunale di ACI Sant'Antonio. Adriano Sofri ieri ha presentato la sua ultima fatica letteraria, Il principe Tupac e la principessa. Un libro che non è solo una riflessione sull'opera di Niccolò Macchiavelli, ma è soprattutto un tentativo di rileggere l'attualità attraverso uno degli scritti più celebri della storia dell'umanità. I capisaldi del pensiero di Macchiavelli diventano chiavi per leggere tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Da Renzi, Grillo, il Medio Oriente, il ruolo delle donne, moderato dal giornalista Marco Militello, al dibattito hanno partecipato pure Biagio Spoto dell'Università di Catania, in cui si occupa di filosofia politica, e Saro Dagata, sindaco di Valverde. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Sant'Antonisi in movimento e dall'assessorato alle politiche giovanili del comune di ACI Sant'Antonio, retto da Maria Grazia Leone, vera deux macchina della serata. Grazie. 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 Grazie.